Udienza sospessa nell'aula bunker di Lamezia Terme nel corso del processo rinascita scotta alle cosche d'Indrangheta del Vibonese. Lo stop all'udienza è stato disposto dal collegio giudicante a causa dell'allagamento dell'aula, determinato da un'infiltrazione d'acqua dal pavimento causata da un temporale. Secondo quanto è stato possibile accertare, i tombini interni non sono riusciti a contenere il forte flusso di pioggia nelle condutture, con conseguente allagamento di una parte dei locali. L'acqua ha invasso copiosamente l'aula col rischio di toccare i fili elettrici e provocare un cortocircuito. A quel punto, dopo la segnalazione di quanto stava accadendo da parte degli avvocati, ai giudici non è rimasto altro che bloccare la deposizione di un test e disporre la sospensione dell'udienza, in modo da consentire ad una ditta specializzata di rimuovere l'acqua. Il processo riprenderà domani. Non è la prima volta che nell'aula bunker di Lamezia, costata 4 milioni e mezzo di euro, si verificano disagi dalla presenza di topi e della infiltrazione d'acqua dal tetto all'impianto di condizionamento dell'aria e da quello del riscaldamento, il quale spesso è andato in tilt.